un saluto a bianconero ragazzi la difficoltà della juventus non è soltanto gestione degli acquisti gestione di acquisti e se sbagli un acquisto non sa più risolvere se acquisti sto giocatore trovo i vende perché non ti piace più e poi lo vuoi questo sì che è sbagliato questo è maniera di sbagliare giusta la difficoltà della juventus e di montarsi la testa montarsi la testa è la cosa più brutta di una squadra calcistica o ci siamo montati la testa con cristiano ronaldo ronaldo dei ci siamo montati la testa ci siamo montati la testa noi vinceremo le champions noi siamo i più forti noi vinceremo tutte le champions di fila e poi non abbiamo fatto niente abbiamo tenuto cristiano adobe tre anni non ha fatto niente niente no aspettate ronaldo ci ha risolto moltissime partite specialmente la tripletta con l'atletico di madrid e ronaldo che faceva tutto da solo per quale motivo perché la squadra non giocava e cosa vuole pretendere la juventus noi vogliamo vincere la champions league ma se ma se la squadra non gioca per vincere la champions league bisogna sudare bisogna cacciare sudore non è che tu vuoi vincere la champions league stare fermo nella tua stessa posizione no la champions è un obiettivo è soltanto che anche per la champions anche vincere la coppa della champions è uno è un'ossessione abbiamo perso la champions quest'anno ci dobbiamo ritentare abbiamo perso anche quest'anno la champions ci dobbiamo ritentare forza ci possiamo credere perdiamo ancora una volta la champions ci dobbiamo ricredere basta basta cristiano ronardo vi siete montati alla testa con cer7 con la champions league insieme a cer7 pure se la champions league non la riusciamo più a vincere non fa niente punto noi siamo sfortunati anche la juventus di 40 anni fa con boniec platini rossi taddelli e tutto il resto no la champions l'abbiamo sempre pressa punto boniec scirea rossi platini gentili caprini zoff in porta con questa squadrona perché questa è una squadra questi giocatori che appena allencato più altri era veramente una grandissima squadra erano dei giocatori pazzeschi che adesso ovviamente sono invecchiati stiamo parlando di 40 cd 40 di 30 anni fa però ragazzi ragazzi io dico una cosa di 40 anni fa non stiamo parlando però anche una squadra come la juventus che non riusciva neanche a vincere una champions perché erano sfortunati noi siamo sempre sfortunati la champions non è il nostro forte è però se però ci vogliamo impegnare vogliamo cacciare il sudore dei nostri capelli vogliamo una squadra che sa giocare una squadra che ha un gioco che sa che ha un gioco tattico ha un gioco fisico ha un gioco mentale tecnico illustrativo messo in campo noi la champions la riusciamo a vincere soltanto se noi ci montiamo troppo la testa come abbiamo fatto con cristiano ronaldo e anche con la con la coppa in finale di champions non risolviamo niente non risolviamo niente e lo continuiamo a fare nonostante questo che dico lo continuiamo a fare adesso quest'anno la juventus ci scommettete ci scommettete che perderà un'altra champions ci scommettete che quest'anno la juventus non riuscire a vincere la champions ci scommettete ci scommettete che ci devo fare io che la juventus perde la champions è una squadra con troppi problemi problema in attacco problema in centrocampo problema in difesa in difesa abbiamo tutti i giocatori di alta età di più di 30 anni noi abbiamo bisogno di giocatori veloci di giocatori giovani di giocatori che sanno correre che sanno difendere poi in porta abbiamo quel birillo di cesni anzi forse un birillo uno scolapasta un bicchiere se li metti lì in porta meno qualche parte la riescono a fare rispetto a scelsi che con l'udinese con il porta ha fatto mille papere mille papere signori mille papere mille papere non solo con l'udinese con tutte le partite certi oltre su un grande potere ha fatto tante ma di quelle papere di quelle papere e registro anche con la maglia della juventus tanti di quelle padevo c'è cerni e noi poi critichiamo buffon perché è vecchio anziano a meno buffon le parate le riusciva a fare a meno buffon le parate le pape non te le faceva me ne ricordo uno in particolare contro il sassuolo sassuolo 2 2 con la stagione di sagri quella sì che è stata una grande papa di buffon però ragazzi dai scesti che regala stigolno e scesti che regala stigolno poi ragazzi miei i rigori non ho visto un rigore parato e bloccato da scesni a parte uno con in valencia gli altri non li ho più visti punto e basta una juventus i tifosi vogliono vedere la juventus di prima vogliono vedere la juventus del 2017 la stagione della juventus 2017 2018 ragazzi è una bomba elettrica la juventus segnava sempre ha fatto sette gol con lì sassuolo vinceva con l'inter vinceva col milan vinceva con la lazio vinceva con tutti adesso noi non siamo neanche capaci di battere l'empoli di fa un gol all'empoli complimenti juve complimenti complimenti godiamo ultima notizia ultimo calciomercato grismannavale atletico di madrid perfetto acquisto fatto dell'atletico questa è la nostra mentalità questa è la nostra mentalità questa è questa è la nostra mentalità perfetto ci più ci montiamo la testa più queste sono le conseguenze un saluto al bianconero ragazzi cosa dice bianconero non tocchiamo mai fanno one football cliccate mi raccomando